Musica Ciao a tutti, se sentite un rumore strano in questo video, è il condizionatore Insomma, allora, oggi ho deciso di farvi il... Ciò del glosso sulla mano Oggi ho deciso di farvi il primo di quella che credo che sarà una serie Di video ispirati alla mia collezione di orecchini che vi ho fatto vedere di recente Quelli che ho preso da Forever 21 In particolare, questo trucco è ispirato a questi Come vedete, verdi e viola Ho giocato assolutamente con i colori Mi sono divertita come una pazza Voi sapete quanto mi piace fare look sempre portabili Perché comunque look da mascherata ancora non li sento in me Cioè, li sento latenti ma non sento ancora di farne tutorial Verde e viola Quindi dei colori un po' pazzi Però che abbinati insieme secondo me stanno molto molto bene Ho utilizzato prodotti neve make up di nuovo Perché non mi sono... Non mi sono ancora stancata Ho utilizzato in questo tutorial soprattutto questi due paretto Sia intensissimi e chiarissimi Ah, possono mostrare la stessa Se io accederlo la voce Una volta la faccio così La faccio così Davvero mi posso muovere Ma non sono le mani Così vedete Che sono proprio io Che non sto accelerando il video Niente, ogni tanto questa voce mi viene Tipo quando vedo un bambino, no? Voi non avete Quando vedete un bambino Il desiderio di staccargli le manine Di farvi una sciarpina Oppure di staccargli il nasino E di appenderlo ad una collanina Insomma, quando vedo un bambino Soprattutto inizio Non staccherei davvero le mani ai bambini, eh È un modo di dire Nel senso che me li spupazzerei tutti E rimangerei a morse Li strezzerei fino a solo Togli soltare la testa Anche questo era uno scherzo È che i bambini fanno E dire Carini E ho deciso anche Che mi troverò un saluto Da fare all'inizio E alla fine del video Cioè, tutti ce l'hanno Cioè, Alice Lai Codica Ciao ragazze Ciao ragazzi Poi c'è De Van Mazelan Che ha Ciao pulzelle Bluebeam Che ha Ciao darling Io devo trovare qualcosa Clio ha Ciao Ma io Non ho un saluto Quindi Partiamo applicando Una matita nera Ora applico una base bianca O si ha una matita Un matitone bianco NYX Questo è il Jumbo Pencil Milk Dalla palette intensissimi Neve Make Up Vado a prendere Velvet Ora prendo Vasabi Che è Un ombretto minerale Sempre di neve make up Con un pennello a pennarello Lo applico nell'angolo interno dell'occhio Lo sfumo anche sulla matita Lo sfumo anche sulla matita Ora con un pennello a pennarello sporco con velvet vado a sfumare la linea nera Dai chiarissimi Vado a prendere Ghiaccio Ora prendo la matita metallic Di Essence Che è la numero 6 Green Fermo la matita Con un po' di Vasabi E do Nella rima interna dell'occhio Sempre la matita Green Day Applico delle ciglia finte Allunganti Le 123 NYX E ora diamo un po' Di Mascara Per quanto riguarda il blush Ho già un effetto esagerato Per gli occhi Quindi Io scelgo Un blush Pescato Però abbastanza chiaro Queste cialdine sono piccole All'impossibile Non ce la varo mai Per quanto riguarda le labbra Utilizziamo la stessa tecnica Che ho Fatto vedere nel video Del trucco del buon umore Ossia Prendo Del gloss chiaro E un ombretto Della palette Per chi Fosse interessato Allo scorso video Quello dove facevo vedere La stessa tecnica Ma con un ombretto diverso Gli lo metto qui Vi do tre secondi per cliccare Tre Due Uno Quindi Utilizzeremo il gloss chiaro E favola Ora Siccome il risultato è molto chiaro Vado ad applicare Una matita decisamente più scura E la sfumo verso il terreno Come avete visto Ho lasciato la parte centrale Più chiara E per riprendere un po' gli occhi Utilizzo la matita Metallic In 04 Ilie I Li Electric Li Electric Ok Direi che le labbra sono decisamente Particolari Però Diciamo che se vogliamo usare una serata Possiamo anche metterle Il resto del trucco È portabile Abbastanza Sempre per una serata Io direi estiva Perché colori così forti Io non li uso L'inverno Ok Grazie a tutti per avermi guardato davvero Mi fate tanto felice Iscrivendovi così tanti al mio canale Perché mi sento davvero apprezzata Cioè Mi sto facendo dell'autostima Insomma Grazie a tutti E ci vediamo presto Ciao 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 Grazie a tutti.